Benvenuti, amici miei, in questo primo episodio di Fairy Tales Beyond Reality. Sì, questa è una nuova rubrica. Inizialmente doveva essere un episodio di World Beyond, ma si sa, il bello del montaggio, le cose cambiano, e mi sono reso conto che quello che voglio raccontarvi oggi è più una favola che un fatto di cronaca. Pur essendo entrambi. Sì, innanzitutto un ringraziamento speciale va a Antonella che mi ha segnalato il caso di cui non ero minimamente a conoscenza. Ma cos'è Fairy Tales Beyond Reality? La faccio breve. Una nuova rubrica fresca fresca nata in fase di montaggio che tratta casi reali, i quali ricordano favole, gli stessi raccontati come se fossero una favola. Sì, lo so, è un po' complesso come ragionamento, perciò guardate, mi stoppo qua e lascio la parola al me stesso che ha trattato il caso. Buona visione. E scusate l'attesa. C'era una volta una ragazzina curiosa che si punse un dito su un fuso e cadde in un sonno profondo e profondo, finché il principe azzurro non passò di lì e la baciò, facendola tornare di nuovo in vita. Una favola che conosciamo tutti, giusto? Beh, che ne dite di... C'era una volta una bambina che stava saltando attraverso il laghetto ghiacciato quando è scivolata ed è caduta, sbattendo la testa sul ghiaccio. Qualche tempo dopo, andò a letto e cadde in un sonno profondo e profondo, durato diversi decenni. Questa non la conoscete, vero? Beh, prima di tutto, non è una favola. In secondo luogo, la cosa del ghiaccio è solo una versione di quello che sarebbe potuto accadere quel giorno nel 1876, quando Carolina Olson tornò a casa lamentandosi di un feroce mal di testa. Permettetemi di riportarvi alla fine del XIX secolo, nella piccola isola di Okno, situata appena a largo della costa orientale della Svezia nel Mar Baltico. La famiglia Olson era gente semplice, profondamente religiosa, ma anche incline a credere nelle streghe e negli incantesimi. A pensarci bene, all'epoca non erano i soli a farlo. L'istruzione era ancora rudimentale per la maggior parte degli svedesi e dove non c'era istruzione, c'è superstizione. La famiglia era composta da otto persone. Carolina aveva cinque fratelli ed era la seconda maggiore. Essendo l'unica ragazza, Carolina è stata tenuta a casa per aiutare sua madre con la famiglia. Quando i suoi fratelli andavano a scuola, imparò a leggere e a scrivere, tra fare il bucato e pulire, cucinare e rammendare, il che era necessario per una famiglia così numerosa. Ma ad un certo punto nel 1875, Carolina fu finalmente iscritta ad una scuola vicina. In un giorno non ben precisato del febbraio del 1876, la quattordicenne Carolina scivolò sul ghiaccio, o almeno così disse. All'epoca era sola, ma era tornata a casa con lividi e una ferita alla testa. Alcuni giorni dopo, al mal di testa si aggiunse pure un forte mal di denti. Mamma Olson ha deciso che questa era tutta opera delle streghe e ha mandato sua figlia a letto. Ignorando che Carolina non si sarebbe svegliata fino al 1908. A quel tempo, la storia era che Carolina dormiva. Sua madre la lavava e si prendeva cura di lei. Si assicurava che bevesse almeno due bicchieri di latte il giorno. Ma a parte questo, Carolina dormiva e dormiva. Era diventata un fenomeno locale. Una vera bella addormentata sdraiata così ben curata nel suo letto, mentre anno dopo anno la sua giovinezza scivolava via. Ai giorni nostri, un simile comportamento avrebbe portato ad una sorta di intervento. Dopotutto, non è normale per una giovane donna sdraiarsi a letto mentre la vita scorre. A quel tempo, i medici locali vennero e visitarono e nel 1892 diagnosticarono a Carolina un grave caso di isteria. Così la ragazza fu trasportata in un vicino ospedale dove fu curata con un trattamento di scosse elettriche. Ciò non ha avuto alcun effetto, né tutti i test di puntura con un ago appuntito, dove il personale dell'ospedale sperava di provocare almeno una reazione al dolore. Niente di niente. Carolina, quindi, è stata riportata a casa nel suo letto dalla sua amorevole madre. Essendo stata diagnosticata erroneamente la demenza paralitica, che è un sintomo in fase avanzata della sifilide, altri medici allora andavano e venivano, ma in generale nessuno poteva spiegare la sua condizione di pseudocoma. Durante tutto questo tempo, Carolina non ha mai parlato. Sì, a volte gemeva e si agitava nel sonno, a volte piagnucolava e piangeva, ma non c'erano parole, nessuna forma di comunicazione. Secondo i suoi fratelli, non ricordavano che lei facesse altro che dormire. Impermeabile a tutta la vita che la circondava nel cottage di una stanza che la famiglia Olson chiamava casa. Dormiva, al sicuro, nel suo piccolo mondo di sogni. Nel 1905, mamma Olson se ne andò. E nel sonno, Carolina piangeva copiosamente. Era cosciente e sapeva quello che era successo. Il suo anziano padre si prese cura di lei, ma era troppo vecchio per farcela e così fu installata una governante per vegliare sulla nostra bella addormentata. La governante ha trovato alcune cose che l'hanno sorpresa, come il fatto che i capelli di Carolina fossero sempre puliti e le sue unghie e le sue mani sempre ben curate. La governante ha anche affermato che ogni volta che portava con sé delle caramelle, alcuni pezzi sarebbero scomparsi quando usciva per un momento. Ma nonostante i sospetti della governante, nonostante gli sforzi della famiglia per svegliarla, Carolina sembrava ancora trascorrere le sue giornate in un sonno profondo. Per ovvie ragioni, la governante non era così devota a Carolina come lo era stata sua madre. Le cure amolevoli che mamma Olson aveva dedicato a Carolina erano un ricordo del passato. Laddove mamma Olson aveva reso una sorta di forma d'arte per mantenere Carolina al suo meglio, una vera bella addormentata insomma, i suoi nuovi custodi facevano quello che doveva essere fatto. Nulla di più. Ma improvvisamente, nel 1908, Carolina si svegliò. All'inizio di aprile di quell'anno, la governante sentì strani rumori dalla stanza e corse su per le scale per trovarla barcollante e piangente. Carolina aveva 46 anni e non aveva alcun ricordo dei suoi ultimi 32 anni di sonno. non riconosceva i suoi fratelli, era totalmente intontita dal nuovo mondo in cui si era svegliata. Ovviamente, chiunque è andato da lei per metterla alla prova. Era notevolmente inalterata da tutti quegli anni di inerzia, complice anche il fatto di aver perso un'enorme quantità di peso negli ultimi anni del suo letargo. Man mano che i giorni diventavano settimane, ha riacquistato in seguito la sua forza e la sua parola, anche se quest'ultima non la usava spesso. I test hanno dimostrato che era intelligente al di sopra della media e sapeva ancora leggere e scrivere, anche se non aveva conoscenze base di geografia e storia. La stampa, quel giorno, ha avuto una giornata campale, incantata da questa donna innocente che ha gradito tutte le attenzioni che le hanno devoluto. Uno degli psichiatri svedesi più famosi dell'epoca, Harald Fröderstorn, fece visita a lei nel 1910 e passò molto tempo cercando di capire che cosa le fosse realmente accaduto. Fröderstorn ha rapidamente escluso il letargo totale, dicendo che sarebbe stato impossibile per lei dormire per un periodo di tempo così a lungo senza morire di fame. Pensava invece che Carolina avesse sofferto di una sorta di psicosi provocata da un evento straziante. La sua amorevole madre ha mantenuto la situazione sostenendo la figlia nel suo bisogno di fuggire dal mondo. La grande domanda, quindi, è che cosa accadde veramente a Carolina quel giorno lontano nel 1876 quando tornò a casa ferita e contusa. Beh, ovviamente questo non lo sapremo mai. È stato un evento così traumatico che ha distrutto il suo equilibrio mentale e le ha fatto tirare le coperte sopra la testa per escludere tutte le cose più brutte del mondo. Qualunque siano stati gli eventi oscuri che hanno innescato la ritirata di Carolina nel mondo del 1876, una volta che si è svegliata ha abbracciato la vita fino in fondo vivendo altri 42 anni prima di morire nel 1950. Le persone che l'hanno incontrata la descrivono come una gran lavoratrice che sembrava soddisfatta della sua vita. Una vita strana, per molti versi una vita stentata, permanentemente distorta da quegli eventi sconosciuti nella sua lontana giovinezza.